Allora, io mi chiamo Omar, sono il titolare di Miele Gatta, siamo un'azienda agricola che da 40 anni produciamo miele, siamo piemontesi vicino alla Val d'Aosta, Val Chiusella si chiama, però veniamo qua a Genova e Liguria ogni tanto a fare le fiere, oggi siamo alla fiera di Santa Zita qua a Genova e esponiamo i nostri prodotti, abbiamo tutta una serie di miele che facciamo noi, soprattutto miele di montagna, rododendro, millefiori di montagna, miele un po' particolari fatti a 1800 metri, pollini, miele con prodotti con frutti di montagna, rosa canina e mirtilli e poi ci sono anche quelli classici, acacia, castagno, millefiori, tiglio, siamo produttori quindi la maggior parte dei prodotti è di nostra produzione, è un ottimo miele artigianale, miele italiano ovviamente venite a trovarci, prossimo appuntamento 25 giugno a Fiera di Santa Zita via Casa Regis, ci staremo anche lì.